lunedì se luglio buongiorno benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa con la lettura dei giornali in questa prima fase iniziamo naturalmente con la lettura delle prime pagine i titoli d'apertura sono dedicati in buona parte alla politica perché oggi o probabilmente anche domani tra oggi e domani ci sarà il Consiglio dei Ministri che dovrà affrontare delle questioni molto importanti infatti quella che si apre è una settimana decisamente importante per il governo perché troverà sul tavolo i dossier relativi all'economia, al decreto semplificazione, anche il piano di riforma nazionale insomma vedremo anche alcune anticipazioni che ha dato proprio sulle linee guida il Ministro Gualtieri e poi naturalmente la politica perché si comincia già a ragionare in termini relativi a settembre quando ci saranno le elezioni regionali quindi vedremo che ci sono movimenti con alcune interviste a leader politici poi naturalmente si fa il punto sulla situazione del Covid, lo sapete c'è il timore che possa esserci un'ondata di ritorno continua a preoccupare quello che accade in alcune parti del mondo soprattutto negli Stati Uniti e in America Latina ma c'è preoccupazione anche per l'Europa e allora andiamo a vedere subito che cosa scrivono i giornali partiamo dal Corriere della Sera, vediamo il titolo d'apertura meno tasse, più treni e buoni internet così il piano per l'Unione Europea, le riforme per il Recovery Fund da 173 miliardi di euro e allora vediamo nel richiamo, ci aiuta a capire, richiamo dei servizi che poi troveremo alle pagine 2 e 3 meno tasse per lavoratori e imprese ma niente condoni digitalizzazione di tutte le scuole con un voucher da 500 euro alle famiglie per l'acquisto di personal computer e tablet semplificazioni per sbloccare i cantieri il Ministro dell'Economia Goltieri illustra il piano di riforme da presentare a Bruxelles però naturalmente prima ci sarà un passaggio al Consiglio dei Ministri e poi la cascata di regole, il commento di Sabino Cassese, di spalla lo vedete combattere l'evasione fiscale, ridurre l'erosione tributaria, semplificare l'amministrazione tutti ne parlano, nessuno ci si impegna Amore è il momento del coraggio, ha proclamato il Presidente del Consiglio dei Ministri parte la madre di tutte le riforme, tagliare la burocrazia quindi il commento di Cassese è naturalmente dedicato al Consiglio dei Ministri alle decisioni che dovrà prendere il Governo e poi sempre per la politica c'è un colloquio con il Ministro Di Maio, il PD basta attenzioni o si va a sbattere e poi queste due fotonotizie relative al coronavirus lo vedete, la Movida che cancella le mascherine naturalmente c'è poco distanziamento sociale da queste immagini e addirittura nessuno indossa le mascherine così il Corriere della Sera, andiamo a vedere alla Repubblica il MES non è una trappola, intervista al segretario dell'Unione Europea del Fondo Salva Stati né Troika né Austerity, fiducia a Roma se userà i soldi e poi un'intervista a Franceschini Conte e la maggioranza non si toccano, grave dividersi alle regionali la fotonotizia è relativa al Gran Premio d'Austria che si è disputato ieri, tra l'altro la Ferrari è arrivata seconda però ha vinto Bottas della Mercedes ma lo vedete qui ci sono molti dei piloti che hanno partecipato poi al Gran Premio che si sono inginocchiati questo è un segno di protesta per manifestare contro il razzismo vedete quei piloti in ginocchio per Floyd Floyd vi ricordo è l'afroamericano morto durante un arresto negli Stati Uniti da parte della Polizia e poi vediamo qualche commento per ora siamo nella parte alta della Repubblica c'è il commento di Ezio Mauro dove nasce la paura del futuro e poi sotto di Tito Boeri e Roberto Perotti semplificare non basta la parola naturalmente si sta parlando dei provvedimenti che intende emanare il governo andiamo a vedere la stampa invece il titolo d'apertura è sul Covid lo tsunami abbatte anche il pil delle regioni pronto il piano nazionale delle riforme appunto quello che verrà presentato al Consiglio dei Ministri Banca Italia fotografa la crisi colpite non solo le imprese gravi danni in Piemonte eccolo qui nell'occhiello del titolo in alto e poi c'è l'analisi di Carlo Cottarelli più in basso lo vedete molte idee e poche priorità relativamente ovviamente sempre al piano messo al programma nazionale di riforma il PNR che appunto come scrive Cottarelli dovrebbe essere varato oggi dal Consiglio dei Ministri titoli politici ce l'abbiamo sempre di spalla a sinistra amministrative la scelta di Grillo 5 Stelle e PD Uniti e poi di Massimo Cacciari meglio il voto di un governo senza forma così la stampa vediamo il messaggero appalti procedure più veloci lo vedete i titoli di apertura sono tutti dedicati ai provvedimenti del governo stasera il Consiglio dei Ministri gare semplificate per tutte le infrastrutture abuso d'ufficio solo se c'è d'oro nel piano di rilancio per l'Unione Europea niente condoni ma ci saranno tagli per IVA e tasse sul ceto medio la fotonotizia l'abbiamo vista anche nell'altro giornale era Repubblica i piloti inginocchiati vedete la Formula 1 parte inginocchiata a metà perché in realtà non tutti i piloti hanno deciso di appunto manifestare in questo modo e poi altri titoli relativi alla politica tentazione Conte iscrizione al Movimento 5 Stelle e patto con il PD e poi il centrodestra Berlusconi giochi per il Quirinale Salvini non si fida vediamo il fatto quotidiano non solo Alfano e Maroni nelle cliniche anche gli 007 sua sanità il gruppo San Donato di Rotelli ingaggia perfino il numero 2 dell'Aise sono l'agenzia dei servizi segreti allora sono le 7 e 6 minuti diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità ci vediamo subito dopo riprendiamo la lettura dei giornali vi aspettiamo 7 e 11 minuti buongiorno ben ritrovati allora nella pausa ho preso intanto la prima pagina del Sole 24 Ore quotidiano della Confindustria andiamo a vedere subito l'apertura perché è un'apertura un po' diversa dagli altri giornali lo vedete su sfondo giallo Zaia, la star dei governatori De Caro vince tra i sindaci e allora 18 regioni 4 presidenti più popolari sono del centrodestra seguiti da Bonaccini del PD Calafontana in coda Zingaretti poi 105 città sul podio De Luca Messina, Gori, Bergamo Bucci, Genova Crollo dei leader del Movimento 5 Stelle Raggi il sindaco di Roma penultima e Appendino invece che è il primo cittadino di Torino è al 97esimo posto questo è il Sole 24 Ore andiamo a vedere un'altra prima pagina il giornale nuovo audio shock il giudice di Berlusconi gli devo fare il mazzo stasera a Quarta Repubblica le testimonianze su esposito odio anticav prima della sentenza cambiare il governo il centrodestra discute anche qui la fotonotizia del Gran Premio da Austria lo vedete con i piloti inginocchiati in primo piano Luis Hamilton che è stato proprio il promotore di questa iniziativa per manifestare contro il razzismo e vediamo ancora un altro giornale libero altrimenti con la nuova legge di Ischia Grosso è l'occhiello del titolo principale al Papa tocca bene dire gay in seminario niente omosessuali nozze fra persone dello stesso sesso non esiste terribile dire bimbi che possono cambiare genere se passa il testo anti-omofobia indagano Francesco e poi ci sono alcune interviste che se abbiamo tempo andremo a vedere Bonaccini Antonio Di Pietro sul caso Palamara Raffaele Fitto parla di Puglia piena di soldi li farò sbloccare io perché appunto come vi dicevo nell'apertura ci saranno appunto le elezioni regionali in settembre e poi ancora Gerardo Colombo parla di giustizia attenti e moralisti sgarrano come matti vediamo ancora rapidamente la verità TSO agli italiani TSO se ne parla in queste ore a proposito di Covid il trattamento sanitario obbligatorio via libera ai migranti la ONG esulta la Ocean Viking oggi in Sicilia ci sono circa 180 migranti che sono stati tratti in salvo e ospitati appunto a bordo di questa nave verranno trasbordati oggi su un'altra nave cosiddetta di quarantena perché possano trascorrere lì questo periodo e poi essere sbarcati questo accadrà tra qualche ora a Porto Empedocle in Sicilia continuiamo la lettura però del titolo anzi del sommario buona parte del PD non basta ora cambiamo i decreti sicurezza e mentre la grande maggioranza dei nuovi contagi arriva dall'estero il ministro Speranza studia norme più dure per i connazionali ribelli vediamo ancora chiudiamo con la gazzetta dello sport anche per alleggerire un po' vediamo le notizie sportive piazza pulita Inter ribaltone a San Siro il Bologna vince 2 a 1 e bufera e allora andiamo a vedere gli approfondimenti dei giornali cominciamo dal Corriere della Sera torniamo a parlare di provvedimenti del governo perché come vi ho detto questa è una settimana importante decisamente importante per il governo e allora giù le tasse ma il condono non ci sarà queste sono un po' in sintesi le linee guida del provvedimento sul quale ha lavorato il ministro Gualtieri e naturalmente il premier Conte allora vediamo rapidamente per esempio per quanto riguarda il fisco aliquote ridotte via i sussidi alle fonti fossili e poi per quanto riguarda la famiglia lo vedete più in basso ai figli l'assegno universale più congedi e ancora restiamo in basso a proposito di lavoro salario minimo e ammortizzatori sociali più forti investimenti scuola e ricerca un voucher fino a 500 euro per internet e personal computer e poi in alto semplificazioni questo a proposito degli appalti dei lavori quindi delle opere pubbliche opere appalti meno burocrazia per le imprese questo in sintesi è quello che dovrebbe contenere il documento e poi allora vediamo sempre sul Corriere della Sera il titolo proprio fisco revisione di IRPE FEIVA pronto il piano riforme quello che appunto vi ho fatto vedere in sintesi poco fa e cominciamo però a leggere anche qualche commento qualche intervista in questo caso c'è un'intervista al presidente della Confindustria di Vicenza che decisamente già dal titolo lo vediamo boccia questo provvedimento del governo dice l'ennesimo proclama e che fine hanno fatto le proposte di Colau vi ricordo Colau era capo di quella cosiddetta task force voluta dal governo e allora vediamo che cosa dice Vescovi che è appunto il presidente di Confindustria Vicenza dice secondo il ministro dell'economia Gualtieri bisogna evitare che la crisi pandemica sia seguita da una depressione non c'è tempo e allora come risponde Vescovi temo che la fretta sia legata al fatto che ormai siamo in campagna elettorale per le regionali di settembre c'è la pausa estiva ma in pausa da che visto che siamo rimasti fermi per tre mesi si domanda appunto ironico Luciano Vescovi dice nel mondo non si ferma nessuno la verità è che facciamo tanto gli schizzinosi sul mess invece dovevamo chiederlo un mese fa forse abbiamo una memoria corta l'anno scorso per fare una manovrina da 14 miliardi perché gli altri 16 dei 30 complessivi erano a debito siamo impazziti ora abbiamo una quantità enorme di risorse grazie all'Europa vogliamo accontentare tutti dici che cosa intende mi può spiegare le largizioni alle colf che abbiano lavorato oppure no è l'ennesima lotteria come le click day per i 50 milioni sulla sicurezza alla quale hanno partecipato 240 mila contribuenti ma la maggioranza è rimasta fuori perché le risorse sono andate esaurite nei primi due secondi ecco sarò contento di una manovra quando davvero scontenterà a tutti questo è quello che dice appunto Vescovi che è il presidente della Confindustria di Vicenza allora continuiamo a parlare di economia ci spostiamo però su Repubblica abbiamo un'intervista al segretario generale del Salva Stati si chiama Gian Marioli lo vedete il titolo se l'Italia userà quel fondo né clausole né austerity e allora vediamo nel dettaglio l'intervista dice l'Italia potrebbe chiedere aspettate ho ingrandito un po' troppo potrebbe chiedere al MES fino a 36 miliardi per coprire le spese sanitarie legate al Covid-19 che tasso di interesse potrebbe ottenerle e allora così risponde alle attuali condizioni di mercato i tassi di interesse sono negativi quindi non solo l'Italia non pagherebbe alcun costo aggiuntivo ma si troverebbe a rimborsare una cifra inferiore a quella ricevuta dice il governo quanto risparmierebbe rispetto all'immissione di un uguale ammontare dei BTP oggi l'Italia risparmierebbe 500 milioni all'anno ovvero 5 miliardi dei 10 anni coperti dalle nostre linee di credito sono soldi che potrebbero essere impiegati per finanziare altre politiche a beneficio dei cittadini quindi come vedete a seconda dell'interpretazione che c'è c'è un'interpretazione appunto diversa dei provvedimenti allo studio del governo e che dovrebbero essere varati in realtà poi dall'Europa c'è un'altra intervista questa volta sul messaggero è a Stefano Buffagni che è vice ministro della salute allora dice per noi oggi la priorità è il recovery fund questa la trovate sul messaggero dice il rimpasso l'azione 5 stelle sia più incisiva quindi vedete nell'intervista si affrontano vari temi allora vediamo vediamo una domanda che gli hanno fatto dice se ci sarà un voto il governo rischierà Forza Italia è a favore come sa anche lei ma per fare cosa dice ci sono già 16 miliardi sulla sanità non spesi che vanno spesi in fretta quando vado in giro le persone non mi chiedono del MES ma del lavoro delle sviluppo dice è sicuro che il Movimento 5 Stelle non cederà oggi non è una priorità e poi dice sul decreto legge semplificazioni domani oggi appunto sarà finalmente il giorno buono relativo alla riunione del Consiglio dei Ministri mi auguro che prevalga la concretezza e non la paura così dice Buffagni andiamo a vedere però ancora altre notizie torniamo sul Corriere della Sera c'è questo colloquio informale con Di Maio dice così si va a sbattere Di Maio preoccupato dalle tensioni tra il PD e Conte timori per settembre toni sempre più accesi basta vi leggo soltanto il titolo per essere un po' più rapidi e spostiamoci sulla stampa invece abbiamo in questo caso un servizio un articolo di Ilario Lombardo e anticipa il fatto che Grillo potrebbe preparare un nuovo messaggio alleatevi con il PD nelle regioni questo secondo le indiscrezioni raccolte appunto da Lombardo potrebbe essere il contenuto del messaggio di Grillo andiamo ancora avanti vediamo su Repubblica c'è un'intervista al Ministro Dario Franceschini naturalmente affronta i temi politici soprattutto per il PD Conte non si tocca neanche la maggioranza grave dividersi alle regionali e che cosa dice Zingaretti rafforzerà l'esecutivo facendo il segretario del governatore dice il MES prima si decide cosa fare e poi che risorse utilizzare questa appunto è l'intervista di Franceschini ancora molto rapidamente c'è un'intervista anche a Lorenzo Fontana in questo caso la trovate sul Corriere della Sera pagina 15 e allora è il vice segretario della Lega dice se il Cavaliere farà da stampella a questo governo sarà la sua resa così è quello che dice Fontana nella sua intervista vediamo ancora altre interviste andiamo su Libero c'è un'intervista affitto parliamo naturalmente di politica e delle elezioni regionali il titolo la Puglia è piena di soldi però non li usa il virus ha portato eccessi di protagonismo imbarazzanti il candidato del centrodestra perché tale è fitto la regione è seduta su una montagna di risorse europee e nazionali non spese partirò da qui questo diciamo è il suo programma ancora rapidamente vi segnalo queste due interviste sempre sul Libero un Antonio Di Pietro il caso Palamara mi ricorda Tangentopoli un'altra a Gerardo Colombo sempre sul Libero attenti ai moralisti sgarrano come matti queste sono le pagine degli approfondimenti che troviamo c'è Paolo Sottocorona so che è un buon amico quindi gli voglio passare la palla segnalandogli questa intervista sul Fatto Cotidiano caro Paolo c'è un'intervista a Reinhold Messer 76 anni e magari potessimo tutti quanti portarceli così a te Paolo buongiorno grazie grazie buongiorno e le cose che ha fatto e che continua a fare un personaggio veramente incredibile che si già un'altra volta l'ho accennato ho avuto la fortuna e l'onore di incrociarlo di conoscerlo e devo dire che dalvero è una persona se fosse possibile ancora più forte più intensa migliore di quella che sembra attraverso i media bene meno male che ci sono persone così poche nuvole al sud ma con qualche traccia di temporale sul resto del paese vedete la mattinata si presenta tranquilla vediamo cosa succede nel corso della mattinata ma sapete che il calcolo è fino alle 14 continuano a esserci queste piogge in Calabria localmente intense ma mi pare che questo va d'accordo con la situazione del momento al nord compaiono vedete al confine fra Lombardia e Trentino tra Trentino e Veneto delle piogge non intense direi abbastanza normali vediamo nel pomeriggio serata quello è il momento un pochino più critico al sud soprattutto in Calabria a confine con la Campania con la Basilicata qualche pioggia qualche pioggia in più al nord e non solo come vedete sulle zone alpine e prealpine però si arriva anche nel Veneto in pianura si arriva sulle zone dell'Emilia in parte in Piemonte insomma una leggera instabilità risente di un maltempo che passa al di là delle Alpi c'è domani giornata di domani nelle 24 ore si attenua l'instabilità al nord proprio debolissime piogge sul confine orientale e invece vedete questa zona che prende l'Appennino settentrionale quello centrale qualche precipitazione nel pomeriggio ci potrebbe essere molto attenuata anche l'instabilità che interesserà la Calabria giornata di mercoledì tutto stabile o quasi perché insomma non andiamo a calcolare queste piccole macchie verdi che quantità di pioggia sono perché veramente sono inferiori al millimetro quindi giornata di tempo totalmente stabile le minime di questa mattina ancora relativamente alte sono scese un poco questa mattina in realtà abbiamo 20-22 gradi al nord che è parecchio sopra la media ma ne parleremo alle 8 di come cambieranno già fra oggi e domani e chiudiamo con lo stato dei mari tranquilli quelli più settentrionali ma vedete questa fascia che va dal mare di Sardegna a largo il Golfo del Leone in realtà attraverso i canali fra le isole maggiori e lo Ionio beh qui qualche rinforzo del moto ondoso c'è i venti sono sempre in prevalenza occidentali così con una predilezione per il maestrale tutto sommato se volete ci vediamo subito prima delle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio a più tardi grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori